Serve la ratifica della giunta regionale per dare il via al terzo lotto della tangenziale di Forlì, quello che collegherà San Martino in strada e l'ospedale Morgagni Pierantoni. Uno stralcio fondamentale per completare il progetto complessivo della tangenziale cittadina. Lunedì 10 febbraio ci siamo trovati al Proveditorato delle Opere Pubbliche a Bologna con il Ministero che ha governato la terza conferenza di servizio nella quale è stato dato il via al progetto definitivo del terzo stralcio della tangenziale. Tutti gli attori, gli enti che sono intervenuti hanno dato il benestare all'Opera che adesso dovrà essere trasmessa alla Regione per la ratifica con una delibera regionale non appena si sarà insediata la nuova giunta regionale. L'Opera avrà un costo complessivo di 120 milioni di euro. L'inizio dei lavori è previsto per il 2021. Dopo che la Regione avrà ratificato appunto con la delibera di giunta regionale il progetto definitivo, ANAS potrà procedere con la redazione del progetto esecutivo. Tempi di realizzazione di questo ulteriore step saranno circa 12-14 mesi e poi si procederà quindi con la gara. È presumibile quindi che nel 2021 si potranno vedere la prima pietra a iniziare i lavori sostanzialmente.